Pele non risponde più alla chemioterapia e si passa quindi a cure palliative. L'indiscrezione è arrivata da un giornale paulista. L'82enne, ex campione brasiliano operato nel settembre 2021 per un tumore all'intestino, lo scorso martedì era stato ospedalizzato all'Albert Einstein di San Paolo. Da quando si è saputo del ricovero di orei, si sono moltiplicati i messaggi di affetto in tutto il mondo, in particolar modo in Qatar, dove la nazionale verde-oro, con la quale Pele vinse tre mondiali, è impegnata nella rassegna iridata.